Sono tornato, sono tornato e lo faccio con un certo stile per iniziare la rubrica che potrebbe appassionarvi ancora di più, potrebbe immergervi nel pieno, nel vivo di questo europeo che si rivela un europeo eccezionale sulla carta, vedremo se sarà così anche nella realtà, lo spero perché ci sono veramente tanti giocatori di qualità. Sono tornato e appunto vi porto alla guida degli europei partendo dal girone A fino ad arrivare poi al girone F che sarebbe l'ultimo girone, quindi analizziamo squadra per squadra e dunque mettetevi comodi, dato che sono vestito in un certo modo mettetevi pure voi di impegno, andate al ristorante, andate a casa di Cerri, in luoghi appropriati. Torniamoci questi occhiali che sembrano troppo tamarro, smettiamola con le cagate e partiamo subito. Partiamo dall'Italia di Mancini che si è svecchiata tantissimo rispetto alle rose di Conte di Ventura, ha fatto un grandissimo, grandissimo lavoro a Mancini dal punto di vista dei giovani che li ha immersi nel pieno del progetto della nazionale come Vari Barella e tantissimi altri che comunque sono stati gettati nella mischia. C'è lo stesso Zagnolo, vi ricordate che era stato convocato da Mancini senza aver ancora disputato una partita con la Roma e alla fine Mancini ci aveva visto a lungo, adesso Zagnolo non l'ha convocato, vabbè perché è riduce da due crociati roti ci credo, però avrà tutto il tempo del mondo, sempre che non faccia la fine di Balotelli eccetera eccetera, mi auguro di no, però avrà tutto il tempo del mondo per europei, per mondiali, tanto è giovane quindi ha tutto il tempo del mondo. Detto ciò l'Italia potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 classico, con Donnarumma tra i pali che sicuramente lì non c'è nessun dubbio, Donnarumma deve essere il titolare. Sulla sinistra c'è un leggero ballottaggio, Emerson Palmieri o Spinazzola, io preferirei Emerson Palmieri che poi reduce insieme a Giorginio dalla vittore della Coppa dei Campioni, quindi poi Emerson parliamoci chiaro ha una grandissima qualità, Spinazzola non che non ce l'abbia, però vedo proprio Emerson Palmieri ancora di più nel vivo del progetto Mancini, secondo me gioca meglio Emerson Palmieri rispetto a Spinazzola con Mancini e dunque vedrei meglio Emerson Palmieri che può essere anche un esterno aggiunto perché Emerson Palmieri spinge molto su quella corsia e può essere pericoloso appunto in fase offensiva pericoloso per gli avversari ovviamente. Poi Chiellini e Bonucci sicuramente saranno i due centrali e i titolari inamovibili, mi verrebbe da dire anche se c'è un certo bastoni che potrebbe comunque subentrare qualora Chiellini avesse sempre i soliti problemi fisici che ormai Chiellini lo conosciamo. E poi abbiamo sulla destra Florenzi che sicuramente è 100 volte più avanti rispetto a Di Lorenzo anche perché Florenzi ha una certa esperienza, Florenzi ha fatto una bellissima stagione con la maglia del Paris Saint Germain e sono convinto che il titolare sulla destra sia lui. Poi inizialmente a centrocampo avremo Locatelli perché Verrati sta ancora recuperando da un problema fisico avuto ad aprire con la maglia parigina, però sicuramente il titolare sarà lui ovviamente quando sarà in condizioni di poter giocare il titolare sarà Verrati, però inizialmente sarà Locatelli, Giorginio, ovviamente Giorginio che tra l'altro può essere importantissimo anche per i calci di rigore, è uno specialista, uno dei migliori in circolazione e poi Barella che sappiamo tutti chi è Barella non ha bisogno di presentazioni, grandissimo Nicolo Barella. E poi in attacco potrebbe essere questo leggero ballottaggio tra Chiesa e Berardi, ma Chiesa parte strafavorito assolutamente, però Berardi è comunque un giocatore interessante, si gioca nel Sassuolo però ragazzi è pronto, dà tantissimo per una big, secondo me Berardi grandissimo talento. E poi c'è anche Bernardeschi che in azione fa sempre bene, può essere un grande revole 2.0 per fare un esempio della nostra nazionale, ovvero che vi ricordate nell'Italia di Conte è grandissimo giocatore, poi gli ultimi anni alla Lazio li ha fatti molto, ma molto così e così. Sono quei giocatori che nel club non riescono a esprimersi, mentre in nazionale riescono a esprimere tutte le loro potenzialità e ci sta, ci sta assolutamente. Quindi Berardi può essere una pedina importantissima. Per la nostra nazionale in attacco sicuramente il mobile parte favorito su Belotti, anche se una statistica è a favore del Gallo, ovvero che con Mancini ha fatto più gol Berotti rispetto ai mobili, i mobili nazionali non è tutto questo grande attaccante, tutta questa grande stella. E sulla sinistra confermatissimo Insigne, specialmente dopo la stagione speciale, fantastica, straordinaria, Dos Cugniz che ha fatto poi più di 15 gol, adesso non mi ricordo i gol precisi, però ha fatto veramente una grandissima stagione a livello realizzativo e speriamo che possa trascinare la nazionale sotto questo punto di vista. Poi andiamo alla Turchia. La Turchia è una squadra che può mettere seriamente in difficoltà l'Italia, ma poi perché la Turchia in generale la vedo come la squadra forse più attrezzata rispetto a Svizia e Galles, è quella che può mettere l'acceleratore per il secondo posto, oppure per il primo posto, che Proccio avrà l'Italia nella prima partita, che Proccio avrà l'Italia nella partita dei gironi, se sottovaluterà il girone o meno, non penso, considerando i precedenti, cioè l'Italia non perde da tantissime partite e la Turchia può essere pericolosa, giocando con un 4-4-2 oppure con un 4-1-4-1, con Kakir tra i pali che dovrebbe partire favorito su Gugnok, Gugnok, spero che la pronuncia sia questa, poi difesa 4 un posto da Selic, Kabak, Soyuncu e Meras, con Kabak e Soyuncu che poi sono i due centrali che possono blindare un po' la retroguardia turca, e De Miral dovrebbe partire in panchina perché poi De Miral non è il titolare della Juventus, non è un giocatore che gioca sempre e invece Kabak a Liverpool ha giocato da quando si è infortunato Van Dijk, poi è stato preso anche per quello, Kabak che non è di proprietà del Liverpool, però ha giocato in questa stagione a Liverpool e ha giocato diverse partite, quindi potrebbe essere lui il titolare, assieme a Soyuncu, Soyuncu un altro difensore intrigante e interessante. A centrocampo poi Karaman, Yokuslu, Tufan, Chalanoglu e poi in attacco Hilmas e Yasici, le pronunce ragazzi, tappatevi le orecchie per le pronunce, diciamo che il tandem là in avanti, quella coppietta può essere letale per l'Italia e per gli azzurri, perché comunque sono due giocatori dell'Ione, freschi, freschi della vittoria della Ligue 1, strappata al Paris Saint-Germain dopo che da diversi anni stava dominando il campionato francese, grandissima impresa da parte dell'Ile, che è dovuta soprattutto grazie a questi due che sono veramente devastanti. e sicuramente la Turchia dovrà affidarsi al 35enne Hilmas, che poi è il giocatore che ha segnato tantissimi gol a Lille quest'anno, mentre Yasici è il giocatore che ha dato più qualità, poi anche c'è la Noglu ragazzi, lo conosciamo, in panchina c'è Junder che non ha giocato con l'Eister, ma anche Junder comunque quando ha zecca la partita può essere pericoloso, quindi occhio anche alla panchina della Turchia, che non è una panchina da sottovalutare, anzi la Turchia ha veramente una bella squadra e secondo me i tifosi della Turchia ci credono, perché poi sappiamo tutti che sono una tifoseria molto molto calda, che fa sentire la presenza, e secondo me ci credono, perché ha un bello organico per questo europeo la Turchia, e ci credono soprattutto perché potrebbe essere, non dico scontato però, sono favoriti assolutamente per il passaggio assieme all'Italia, verso gli ottavi di finale, poi abbiamo la Svizzera, con il suo solito 3-4-2-1, la Svizzera possiamo conoscerla anche meglio della Turchia, diciamo che la Svizzera è leggermente sfavorita rispetto alla Turchia, ma anche la Svizzera quando si mette l'impegno la Svizzera può essere molto pericolosa, anche per l'esperienza in generale della Svizzera. Andata da Petkovic, ex Lazio peraltro, quindi abbiamo Sommer tra i pali, che ragazzi è una garanzia, una certezza assolutamente per la Svizzera, difesa 3 composta da Elvedia, Kanji e Riccardo Rodríguez, Riccardo Rodríguez che può anche non giocare al Torino, può anche essere ricordato per i suoi precedenti al Milan, che non sono stati esaltanti, però ragazzi in nazionale ha sempre fatto bene Riccardo Rodríguez, è importantissimo per i calci piazzati, perché il piedino ce l'ha, poi Bundesliga ha sempre fatto bene, magari in un contesto che non sia quello della Serie A, riesce a far bene, quindi occhio a Riccardo Rodríguez, a Kanji ragazzi difensore fortissimo del Borussia Dortmund, il Vedi difensore del Borussia Mönchengladbach se non erro, e un bel pacchetto difensivo assolutamente della Svizzera, da non sottovalutare. Esterno destro Widmer, ma può essere anche inserito Edemilson Fernandes, dipende dalla partita, per le partite più difensive tocca a Widmer, per le partite dove devi spingere, tocca a Edemilson Fernandes. Poi abbiamo Froiler e Ciaka, che sono i due centrocampisti, che uno dà sostanza, che è Froiler, che dà sicuramente più equilibrio alla squadra, e poi uno che dà qualità, ovvero Ciaka, centrocampista dell'Arsenal, che forse conosciamo tutti. Poi Vargas sulla sinistra, Shakiri sulla tre quarti, a sopportare le due punte, Embolo e Seferovic, che comunque possono essere dei giocatori pericolosi, soprattutto Embolo, ragazzi. Embolo che può essere un giocatore che se dà quella rapidità, quell'accelerazione di turno, non è facile da placare, e quindi bisogna fare assolutamente attenzione. Shakiri lo conosciamo tutti, anche se non sta giocando tanto, però comunque Shakiri è sempre pericoloso, in ogni caso, quindi occhio, occhio a Shakiri. E poi, infine, abbiamo il Galles, la squadra meno pericolosa, ma ricordiamo che ad Euro 2016, è arrivata in semifinale, battuta dal Portogallo, campione in carica, quindi vorrà dire che il Galles, potrà essere un minimo pericoloso. È vero che ci è passato diverso tempo, la guida tecnica è cambiata, certi giocatori sono cambiati, mica tanto, perché poi Bale e Ramsey, i due punti di riferimento del Galles, sono comunque rimasti, tra i convocati sia Euro 2016 che Euro 2021, e dunque potrebbe essere una mina vagante, perché no, ma sicuramente scuola a cuscinetto il Galles, non ce lo verrà. Il Galles giocherà con Vard tra i pali, Mefam, Günther e Lawrence, tra il pacchetto difensivo, comunque vi ho detto prima, tappatevi le orecchie per le pronunce, Roberts, Morrell, Ampadu e Williams a centrocampo, in attacco, Bale a destra, Wilson, che poi non ha segnato tanto questa stagione, ma Wilson può essere un altro punto di riferimento del Galles, e ho messo Ramsey da esterno-sinistro, magari può essere anche un 3-4-2-1 con Bale e Ramsey sulla tre quarti, penso che Ramsey venga schierato comunque da titolare, anche se non è stato schierato titolare dal nuovo Citi del Galles, perché ricordiamo che l'altro è stato accusato di violenza domestica, ha la sorella e la ragazza se non erro, quindi è stato costretto dalla federazione gallese a dimettersi, e dunque è subentrato il secondo allenatore del Galles a fare il primo, e quindi a guidare la nazionale gallese verso Euro 2021. Che dire, diciamo che Ramsey ha fatto una stagione deludente, e dir poco, alla Juventus, però è un giocatore che comunque può sfruttare l'europeo come vetrina, e dunque potrebbe avere sicuramente una chance, anche per alzare un po' il prezzo del suo cartellino, perché finora è molto basso, è vero che ha una certa reputazione in Premier League, però se la Juve lo vuole vendere, deve sperare appunto che Ramsey si metta in mostra in questo europeo, con avversari comunque di tutto rispetto, Turchia, Svizzera, Italia, sono comunque squadre sicuramente superiori al Galles, il Galles secondo me finirà a quarto, però non lo so, diciamo che è imprevedibile come situazione, perché appunto il Galles, lo scorso europeo, è arrivato in semifinale, è stata la rivelazione di quello europeo, la più grande rivelazione, e dunque staremo a vedere che cosa potrà fare il Galles, quest'anno, comunque in questo europeo. La mia classifica, Italia sicuramente prima, Turchia seconda, terzo posto per la Svizzera, e quarto posto per il Galles, questo è il mio riassunto per il girone A, è la mia guida per il girone A, e adesso ci vediamo poi per, cioè non adesso, nei prossimi giorni, per il girone B, per il girone C, D, E ed F, per finire un po', anche tutta la guida degli europei. Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.